Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di compravventi, come vedete sto facendo da compravventi con questo giocatore, Antonio Candreva, che si prende facilmente all'asta, devo dire. Qua ce n'è due in questo momento perché si vede che ce n'erano pochi di Candreva in quel momento, ne ho trovati solo due, ma comunque vedrete che riuscirò a prenderne almeno uno perché il prezzo sta a 2200 di compravventi, ma comunque il prezzo dell'asta per giù si prende a un prezzo molto basso. Adesso per esempio ho schippato e ho visto come vedete il compra ora che è il minimo a 2400, ho preso una a 800 crediti, quell'altra a 1000 perché non mi bastavano i crediti, come vedete ne ho 1000 e quindi se no mi portavo a casa anche quello a 1100, ma comunque era sempre un buon profitto perché adesso andrò a prendere Candreva e andrò a mettere a 2300 crediti e insomma vediamo se me lo comprano, quanto ci mettono, insomma vediamo un po' Adesso taglio il video per vedere appunto se lo comprano, quindi l'hanno comprato dopo pochissimo tempo, se non dire un minuto, due minuti e devo dire ho portato un esempio con questo giocatore con Candreva, ma ne potete fare con tanti di Candreva, ora io ne ho preso uno per far veloce, quindi se pensate mettete like, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti da Black